Vagava impaurito sulla statale 106 con il rischio di essere travolto. Un cane di razza metice è stato tratto in salvo dai componenti di una pattuglia del distaccamento della polstrada di Trebisacce. L'animale di circa un anno è stato soccorso dai poliziotti in località Tarianni nel territorio del comune di Amendolara e uno degli agenti intervenuti, essendo amante dei cani, ne ha richiesto l'adozione. I poliziotti, allertati dalla sala operativa sulla situazione di rischio venutasi a creare sull'arteria, hanno raggiunto il luogo indicato trovando il meticcio che non appariva né malnutrito né maltrattato. Inoltre aveva sia il collare che il guinzaglio, cosa che ha fatto presupporre che fosse stato abbandonato. Ora il cucciolo, a cui è stato affidato il nome di Lacchi, dopo una visita veterinaria è nelle buone mani del poliziotto, che ha preso così tanto a cuore il cucciolo.